Ecco, partita la prima serie maschile degli 800 metri Partenza decisa di un atleta nella crisi Partenza decisa di un atleta nella crisi Partenza decisa di un atleta nella crisi Ecco qui, in cerca di andare a caccia di fuggitivo Ma a quel lato veramente buona stagio Carabbina C'è un atleta per la Motus Che cerca di perdere il meglio possibile Però, ormai penso che Pantaleoni Davide A meno che non sbaglio in strada Sia un po' di più Un applauso a questo ragazzo Dalla di Semi Paglia partita Assista, è arrivato ancora prima Bravo, 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 un applauso a questo ragazzo Dalla forza ancora Sertomario, secondo Terzo, non è quarto Ecco, loga Grazie Grazie